Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha aperto il convegno Le donne lasciano il segno che si è tenuto a Palazzo dell'emiciclo in occasione della giornata della donna Sette donne hanno raccontato sette storie legate al mondo del lavoro, dell'imprenditoria e dello sport Un pensiero va anche alle donne ucraine che in queste giornate stanno affrontando la dura realtà della guerra Le donne che lasciano il segno, il tema di questo evento organizzato per sottolineare la festa delle donne Organizzata dalla nostra commissione Pari Opportunità, diciamo così, che ha voluto appunto tracciare il segno Di sette donne che hanno affermato un talento, la capacità di essere imprenditrici senza perdere la delicatezza dell'essere femminile Il che rappresenta una conquista perché è vero che ci sono tantissime diseguaglianze ancora da colmare Però è anche vero che le donne si stanno facendo strada a molti livelli Qualcuno dice ancora poche, sicuramente molto più di quanto erano prima E questo è un fatto positivo Naturalmente in questa giornata non può che il pensiero andare anche alle tante donne Che in questo momento stanno cercando di salvare la vita ai propri figli Nello scenario di guerra è un momento molto duro e molto triste anche per le immagini che vediamo tutti i giorni in televisione Io credo che ogni giorno si faccia un passo in avanti Chiaramente come ho già detto molto c'è ancora da fare Però il taglio appunto di questo convegno di oggi è la sottolineatura dei progressi fatti Perché invece che parlare di sette storie di disagio è anche giusto parlare di sette storie di successo Quindi molto resta da fare però siamo sulla strada giusta Sono intervenute alla rassegna Rosa Pestilli, vicepresidente della Commissione regionale Pari Opportunità Che ha ricordato l'origine di questa giornata sottolineandone l'importanza Ed Emanuela Ripani, presidente col diretti Teramo Che invece ha voluto evidenziare come alcuni progetti fra i quali donna e impresa Abbiano avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione Una giornata internazionale della donna Però per quel che riguarda il mio pensiero Credo che sia un pensiero comune a uomini e donne Esistono delle persone Ci battiamo tanto per quella che è l'emancipazione Ho ricordato appunto che l'8 marzo è una data che sarà stabilita Dalle donne russe che si sono ribellate ad un sistema nel post-guerra Per la precisione in Bielorussia Per ottenere quelli che poi erano i diritti sociali Così come ho ricordato che il principio delle pari opportunità È raggiunto soltanto da sei paesi in Europa Noi come Commissione siamo per una parte attiva Per proporre, per collaborare, per mettere insieme Quello che è il sistema sia pubblico che privato Per partire da una cultura delle pari opportunità A cominciare dal mondo scolastico E raggiungendo qualsiasi ruolo e livello Che possa essere istituzionale, manageriale, imprenditoriale Della nostra società Coldiretti ha avuto sempre un'attenzione nel mondo delle donne Infatti all'interno di Coldiretti abbiamo anche donne impresa Che è specifico per l'impresa al femminile Io sono un'azienda che nasce nel 2002 Entro nel mondo di Coldiretti come impresa da giovanile Poi faccio responsabile di donne impresa E oggi sono il residente provinciale di Coldiretti Teramo Quindi penso che Coldiretti abbia una grande attenzione Anche nel mondo femminile Dove possiamo dare grandi opportunità nel campo agricolo Penso che l'unione faccia la forza Quindi quando c'è una donna o un uomo insieme Capaci di portare avanti dei progetti Anche come nella mia esperienza Sfondano delle porte aperte Grazie 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 Grazie